buona serata a tutti cari amici e ben ritrovati sia per me che per voi sul mio canale youtube dopo il grande allenamento di oggi di baskin per me ma veniamo al video parliamo della fiorentina che nel primo anticipo di oggi della giornata numero 23 di serie a ha in maniera rocambolesca oserei dire perso per due a uno tra le muramiche contro l'atalanta nonostante il vantaggio iniziale di chiesa i bergamaschi nella ripresa ribaltano tutto con zapata e il neo entrato malinovski vittoria dell'atalanta sicuramente favorita ma con una quota bella importante 1,90,95 e 86 bene l'atalanta con questa vittoria innanzitutto riesce a mantenere salda la sua posizione per quanto riguarda la Champions League quarto posto 42 punti la Fiorentina invece 14esima 25 punti è il secondo K.O. di fila due sconfitte nelle ultime cinque partite comprese anche un pareggio e poi due vittorie ma abbastanza insomma parliamo di gennaio è 12 e 18 gennaio l'atalanta sarà impegnata il 15 febbraio in casa contro la Roma mentre la Fiorentina se la vedrà in casa della Sampdoria in quello che sarà non dico uno scontro diretto ma quasi bene ribadisco e chiudo il collegamento dicendo appunto la Fiorentina perde tra le muramiche nonostante il vantaggio iniziale l'atalanta la ribadda nella ripresa e finisce 2 a 1 per questi ultimi ciao a tutti